Sono Stefania, ho 19 anni e ho frequentato il liceo classico europeo di Catania e sono una studentessa della MedTech School. Sino quando ero bambina ho sempre avuto una forte passione per il mondo scientifico e le materie umanistiche e sebbene possono sembrare due mondi distanti, in realtà è anche grazie all'approccio ad autori greci e latini come Ippocrate e Seneca che ho deciso di intraprendere un percorso scientifico. La MedTech School è un corso di laurea di sei anni in lingua inglese, organizzato da Humanitas University in partnership con il Politecnico di Milano. Alla fine del percorso conseguiremo un doppio titolo, ovvero una laurea triennale in ingegneria e biomedica e la laurea magistrale in medicina e chirurgia. A differenza di un corso di laurea più tradizionale, gli sbocchi lavorativi spaziano sia in ambito medico che in ambito ingegneristico. Sin da subito mi ha affascinato il programma, sia per la fusione tra medicina e ingegneria, sia per l'attenzione riservata alle nuove tecnologie. Inoltre ho sempre desiderato intraprendere un percorso di studi dal taglio internazionale. L'ambiente è multiculturale, infatti molti dei miei compagni provengono da altre parti del mondo. Armonico e collaborativo, anche grazie alla disponibilità dei professori, è estremamente interattivo e stimolante grazie alle varie attività pratiche organizzate sin dal primo anno. La ricerca mi ha sempre affascinato, ma ho anche sempre avuto un forte desiderio di lavorare a contatto diretto con i pazienti. Sicuramente il desiderio di fondo è lo stesso, ovvero poter apportare un miglioramento concreto alla vita delle persone. In futuro vorrei arricchire le mie conoscenze attraverso qualche esperienza all'estero, ad esempio in Irlanda, dove la popolazione accogliente è disponibile verso il prossimo e l'ambiente medico è dinamico e in continua crescita. Grazie a tutti!